Squadra di Casalanguida, recupero Solengo nel Sinello, stamattina dopo aver fatto uno il tempo ci ha dato un po' di tregua e meno male che stavolta mi hanno ascoltato, abbiamo messo i cani dove dicevo io e abbiamo fatto 7-8 e adesso dobbiamo contare il problema è questo grande che ho ammazzato in mezzo al fiume che adesso ho messo un po' di operaia a ritirarlo ma fa più di un quintale e mezzo adesso vediamo come si può attraversare piano piano poi purtroppo la boscaglia è fitta, qua guardate il bosco e non è semplice andare a caccia qua comunque sempre con il solito cane da volpe l'abbiamo stanati Gigino ha fatto uno, poi si è fatto pure male, è caduto, si è rotto pure in dente ma non va a niente perché doveva dare al dentista a toglierselo, quindi i problemi in genere stanno, gli abbiamo fatto pure un piacere sopra gli altri non lo so quando ne hanno fatti ma si presume dai 7 agli 8 e adesso vado a vedere se riescono a tirarlo fuori se no devo andare a prendere il trattore e lo tiriamo fuori dall'acqua ci vediamo più tardi grazie